bentornati sul canale del nabbo e bentornati a furi siamo al terzo boss linea e questo è uno dei boss che ha la colonna sonora tra una delle colonne sonore tra le mie preferite di questo gioco e soprattutto è il primo boss che veramente è principalmente un bullet hell quindi se siete amanti del genere 感じるかまるで夢のようだそよ風静けさ この場所を飛び立って忘れ去ることができるような気がする しかしお前には分かっているはずだ 思い通りにはいかないことを俺たちはここから出られないんだ 本当の世界はここじゃなく向こう側にあるんだ quindi qui 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 Ma non è così semplice, ma non è così semplice. 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 E' difficile probabilmente perché ogni volta che voi sparate i vostri colpi verranno riflessi da questi scudi. Quello che fanno tante persone in questa parte del combattimento è di usare il colpo caricato sarebbe questo. Per mirare sempre allo stesso scudo in modo da non riempire la schermata di proiettili avversari. Solo che se io cerco di fare questo succede che non riesco più a concentrarmi nello schivare i colpi. E quindi generalmente crepo. E ho trovato che per me, per come funziono io e il mio cervello, sia molto più semplice semplicemente continuare ad andare in tondo sparando così. E concentrare la mia attenzione soltanto sullo schivare i colpi. Prima o poi all'improvviso vedrò il nostro carissimo vecchiettino lì nel mezzo che si prende un bel colpo dritto sui denti e finirà la fase. Ovviamente sto sempre il più largo possibile con la schiena contro la barriera perché così è impossibile che mi possano colpire alle spalle. Il fatto che io continui a muovermi mentre sparo è semplicemente per avvantaggiarmi nella schivata di questi raggi. Et voilà. Un errore che fanno tante persone la prima volta che fanno questo combattimento è cercare di schivare. Di schivare queste sfere quando in realtà le potete tranquillamente bloccare e respingere. Ma questa è fin troppo semplice. Allora quando comincia in questo modo a riempirsi lo schermo di sfere. Voi non fate niente cercate solo di schivare e state pronti a bloccare il colpo non appena arriva come in questo caso. Che bloccherà il tempo e ci darà spazio per contrattaccare. Oh cazzo questa me la sono giocata male proprio. Forza vecchietto. E tre. Per una volta bloccato. Invece di schivare vi assicuro che è molto più semplice. Questa comincia già a essere un tantinello più complessa come fase perché... Ok. Ogni volta che... Cazzo. Ok. Dovrò probabilmente rallentare un attimo e curarmi. Quando volete curarvi aspettate semplicemente che succeda questo. Senza colpire la colonna. Così non dovete schivare i cerchi. E potete concentrarvi soltanto... Tutti tirare fuori qualche cura. Ok. Stesso discorso di prima. Schivare. Aspettare. Pronti a bloccare i colpi. Così. Così. E... Tre. Dai sotto vecchio. Una cosa che forse vi dovrei dire è che... Non potete sparare in questo momento perché... I colpi come avete appena visto restano... Bloccati perché il tempo è fermo. Cazzo. Ho sbagliatissimo tasto. L'ho bloccato invece di schivare. Via. Uh. Ultima fase. Allora... L'inizio di questa fase dovete schivare. Tra un poco... Comincerà pure a lanciarvi dei cerchi se ben ricordo. Voi... Concentratevi sulla schivata. Sto facendo un pessimo lavoro. Davvero pessimo. Davvero pessimo. Davvero pessimo. E adesso... Abbiamo tutte queste belle colonnine da distruggere. Lo schermo si riempirà sempre più di proiettili man mano che andiamo avanti. La strategia per me resta la stessa della prima fase. Schiena appiccicata alla barriera in modo da non essere colpito. da dietro e movimento laterale distruggendo una colonna dopo l'altra e concentrandomi a schivare i vari proiettili. In questo modo oltretutto se un proiettile sta venendo nella vostra direzione sarà distrutto dalla nostra pistola. Sta rendendo tutto un pochettino più facile. Non ricordo se c'è una... Non dovrebbe esserci la parte di melee alla fine di questa fase. quindi dovrei riuscire a farcela perché... È forse una delle fasi finali più facili di tutto il gioco. Dovrei farcela. Ok, adesso pronti a bloccare esattamente come nelle fasi di prima. E' uguala. Oh! Oh, oh, oh. Sì. E in realtà quello che ci ha appena detto il vecchio è assolutamente importante ai fini della storia. Guarda il cielo, lì c'è la sua risposta. Diventerà tutto chiaro alla fine, ma è un'informazione molto importante. Comunque questo è tutto per questo video, se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un like, commentate, condividete e mi date una mano a far crescere un pochettino il canale. Se non siete iscritti considerate la possibilità di farlo così non vi perdete i prossimi video e io nel frattempo auguro a tutti quanti uno splendido proseguimento di giornata.